Isole Canarie, prezzo degli affitti tra i più cari di Spagna. Le Isole Canarie sono la quinta comunità autonoma in Spagna con i prezzi di affitto più alti. A giugno, il prezzo medio d'affitto nelle Canarie era di 13,87 euro al metro quadro, segnando un aumento anno del 7,9%. Questo si traduce in un costo medio mensile di 1110 euro per un appartamento di 80 metri quadri. Alla Spalmas de Gran Canaria, il prezzo medio è di 14 euro al metro quadro, equivalente a 1166 euro per 80 metri quadri. Mentre a Santa Cruz de Tenerife è di 13,10 euro al metro quadro, ovvero 1048 euro per 80 metri quadri. A livello nazionale, il prezzo medio degli affitti a giugno ha raggiunto un nuovo massimo di 12,65 euro al metro quadro, un aumento del 9% rispetto all'anno precedente, superando per la prima volta la soglia dei 1000 euro al mese. Questo aumento è dovuto alla riduzione dell'offerta e all'aumento della domanda in generale in tutto il paese. Sei curioso di scoprire cosa vuole in pentola alle Canarie? Italiano alle Canarie ti tiene aggiornato in tempo reale. Segui la pagina Facebook Lego Gran Canaria e scopri per primo tutte le novità. Il link lo trovi in descrizione. Grazie a tutti.